Un saluto dalla redazione di Telemolise in apertura del nostro telegiornale ancora la vicenda Biomasse perché stamattina c'è stata in prefettura una riunione convocata dal prefetto con i sindaci dell'area del Matese dove dovrebbero essere realizzate le due centrali. C'era anche il responsabile della Civitas, Luca Di Domenico, una delle due società che vogliono realizzare gli impianti e che ha ribadito che i lavori andranno avanti. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Ormai è muro contro muro tra i sindaci dell'area del Matese, la Civitas che ha avviato i lavori per la realizzazione della centrale a Biomasse a Campochiaro. L'incontro che si è svolto questa mattina alla prefettura di Campobasso non è servito a nulla se non arriva a dire la posizione dell'azienda rappresentata al tavolo delle trattative da Luca Di Domenico che è il titolare della società ed è anche il progettista dell'opera. I dodici sindaci alla presenza del prefetto di Menna hanno invitato Di Domenico a prendere in considerazione quanto è accaduto domenica scorsa a Boiano quando un migliaio di persone è sceso in piazza per dire no alle Biomasse. In tutta risposta il diretto interessato ha ribadito che andrà avanti e che i lavori non possono essere bloccati. Ho tutto l'interesse a realizzare l'impianto, questo avrebbe detto in sintesi ai sindaci. Intanto domani scadranno i sette giorni chiesti dal presidente della regione Frattura per valutare con la struttura la possibilità di revocare le autorizzazioni a suo tempo concesse. Una scadenza che a quanto pare non è stata minimamente considerata dalla Civitas che a questo punto potrebbe far ripartire i lavori già nelle prossime ore. Ma i sindaci sono pronti a dare battaglia e i due impianti, quelli di Campochiaro e San Polo Matese, non saranno realizzati. Assessore Perrella, alla vigilia dell'incontro in prefettura c'è stata la riunione del Consiglio Comunale di Boiano. Che cosa è stato deliberato, che cosa è stato deciso? È stato deciso chiaramente il no netto del Comune di Boiano all'installazione delle due centrali. In più il Comune ha deciso di dare mandato a un proprio legale per fare ricorso al TAR. La cosa che bisogna sottolineare è che nella giornata di ieri 29, 12 amministrazioni comunali alla stessa ora hanno adottato lo stesso tipo di deliberato. Quindi hanno dichiarato di essere contrari all'installazione delle centrali. La volontà, e l'abbiamo visto domenica, dell'intera area Matesina, ma a questo punto non solo, perché c'è stata una partecipazione anche di altri comuni e di tante persone anche da Termoli. Quindi c'è una volontà popolare affinché il Presidente Frattura sospenda definitivamente queste procedure. Intanto i sindaci hanno inviato una diffida alla Regione affinché blocchi i lavori per evitare ulteriore risarcimento all'impresa. E mentre dunque continua il presidio per evitare la ripresa dei lavori a Campochiaro, la vicenda ha molte ripercussioni politiche. Si spacca anche il Partito Democratico. Sentiamo Giovanni Minicozzi. La vicenda biomasse avvelena anche il clima politico regionale. Il Governatore Paolo Frattura, rimasto pressoché da solo, cerca di correre ai ripari e tende di fermare gli insediamenti delle centrali da allocare nel cuore del Matese. Dovrà fare i conti però con le imprese titolari dei progetti già approvati dalla Regione e dunque anche con il suo ex socio, Luca Di Domenico, che aveva messo sul mercato le autorizzazioni a suo tempo firmate dall'ex dirigente del settore energia, Riccardo Tamburro. Un affare di qualche milione di euro, soldi che potrebbero essere incassati senza aver investito neanche un centesimo. Intanto cresce la tensione nel Partito del Presidente. Il gruppo consigliare di Palazzo Moffa del PD, gli assessori, il vicepresidente Michele Petraroia e il senatore Roberto Ruta, sono usciti allo scoperto e hanno chiesto a Paolo Frattura di annullare le autorizzazioni, costi quel che costi. Di fatto però non si conosce la posizione ufficiale del PD, in quanto la segretaria Michela Fanelli, da sempre in sintonia con Paolo Frattura, sulla vicenda Biomasse ha mantenuto uno strano silenzio. Frattura dovrà fare i conti anche con i matesini che non mollano e continuano il presidio per evitare la ripresa dei lavori, con i sindaci dell'area del Matese e con il presidente della provincia di Campobasso. Costoro infatti si sono già attivati per impugnare con azioni legali le due determine della regione. Dovrà fare i conti infine anche con un esposto in procura presentato da Alfonso Mainelli, portavoce del Movimento Aria Matese, con il quale lo stesso Mainelli ha denunciato il mancato rispetto nel concedere i permessi di norme fondamentali per la tutela dell'ambiente e per la salute dei cittadini. Dunque la guerra continua, ma la vittoria non è scontata per nessuno. Adesso parliamo della questione formazione professionale, i lavoratori continuano a presidiare, l'hanno fatto anche stamattina la sede del Consiglio regionale. L'Assemblea intanto è stata sospesa per alcune ore su richiesta del consigliere di Forza Italia Michele Iorio. Iorio ha chiesto di anticipare la discussione sull'ordine del giorno delle opposizioni riferito proprio alla formazione professionale. La maggioranza però ha bocciato la richiesta dell'ex governatore tra le proteste dei lavoratori del settore. Il clima resta dunque teso davanti ai cancelli di Palazzo Moffa. Già ieri al termine dell'audizione dei sindacati da parte della seconda e della quarta commissione consigliare, gli operatori avevano duramente contestato l'assessore Petraroia. Lasciamo le immagini che si riferiscono alla seduta di stamattina e vediamo proprio il servizio sulla protesta dei lavoratori della formazione professionale davanti a Palazzo Moffa. Vediamo. Da domani i 90 operatori della formazione professionale saranno a casa. Oggi infatti per loro è l'ultimo giorno di lavoro. I progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo sono scaduti e non sono stati rifinanziati. Tutti a casa dunque dopo molti anni di lavoro. Molti degli operatori licenziati sarebbero andati in pensione tra qualche anno. Ora la loro prospettiva lavorativa e di vita è drammaticamente cambiata. I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti ai cancelli del Consiglio regionale dove è rincorso l'audizione dei sindacati da parte della seconda e quarta commissione consigliare. Un incontro che si è concluso in tarda serata. All'uscita dal Consiglio regionale l'assessore Michele Petraroia è stato pesantemente contestato. Fischi, urla, sono volate parole pesanti. L'assessore è stato scortato dai carabinieri fino alla sua auto. La delusione e la preoccupazione degli operatori della formazione professionale davvero tanta. Noi siamo dei lavoratori che lavoriamo da tantissimo tempo sull'orientamento esattamente dall'87, quindi da più di 30 anni e vorremmo un'apertura da parte di questa politica che ha già deliberato in Consiglio regionale a marzo dicendo che approvando un progetto, un sistema regionale di orientamento permanente che doveva essere sperimentato fino al 31 dicembre per poi essere messo a regime sui nuovi fondi del nuovo POR, della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2015-2020. Vogliamo solo questo, avere la possibilità di continuare a fare il nostro lavoro. Lei da quanti anni lavora con il settore della formazione professionale? 35 anni. E dopo 35 anni? Ci ritroviamo ancora in questa situazione. Purtroppo, nonostante tutto, questo assessore pare che delle leggi non ne vuole sapere. Dell'albo regionale se ne infischia, vuole fare le sue cose con personaggi forse che avrà lui visto che non vuole noi. Per questo ci ritroviamo dopo 35 anni, la maggior parte, gente che tra poco potrebbe andare in pensione, a lottare per avere lo spazio che legalmente abbiamo. Hanno fatto delle cose illegali, adesso per mascherare le cose che hanno fatto vogliono cacciare fuori noi. E adesso la cronaca. Sono cominciati oggi al Tribunale di Isernia, gli interrogatori di garanzia dei principali indagati nell'ambito di un'operazione anti-usura condotta dalla squadra mobile. Intanto il materiale sequestrato durante le perquisizioni delle abitazioni di alcuni degli indagati ha permesso di allargare il fronte delle indagini. Vediamo. Un messaggio postato su Facebook Darei la vita per non morire. È questa l'ultima frase che la vigna Iacomi ha lasciato sulla sua pagina personale. Alcune ore dopo, il suo corpo è stato trovato senza vita in una vasca da bagno al primo piano della villetta, dove la giovane di 26 anni, di origini romene, viveva insieme al suo fidanzato. Potrebbe essere solo un dettaglio, ma anche questo messaggio di difficile interpretazione è finito nel fascicolo che la procura di Larino Aperto per fare chiarezza sulla morte della ragazza. Dall'autopsia disposta dal sostituto Federico Carrai arriveranno le risposte che ora ancora nessuno può dare. Solo ipotesi diverse sul ritrovamento di la vigna che devono essere verificate per stabilire cosa si nasconde dietro il decesso, se un malore, se un gesto volontario oppure altro. Intanto la villetta all'angolo di via Fabio Filzi è stata posta sotto sequestro preventivo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagna di Termoli, coordinati dal capitano Paolo Nichilo, in collaborazione con i colleghi di Campobasso. In paese anche la dottoressa Margherita Neri dell'Istituto di Medicina Legale di Foggia, che ha effettuato l'ispezione cadaverica. Da un primo esame sul corpo della ragazza non sarebbero presenti segni di violenza o tracce di sangue e nella villetta non sarebbero stati trovati oggetti o biglietti sospetti. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Santimotio di Termoli in attesa dell'autopsia. Gli investigatori hanno ascoltato il convivente, è stato lui a trovare la ragazza distesa nella vasca da bagno, ma anche i familiari e i vicini. A San Giacomo la coppia si era trasferita da qualche mese e gestiva una pizzeria al taglio in via Madonna delle Grazie a Termoli. La vigna era molto conosciuta e gli amici la ricordano come una ragazza sorridente e solare. Dopo tanto lavoro durante l'estate i due avevano programmato una vacanza, ma questo viaggio non potranno più farlo insieme. Il servizio ovviamente non era quello sugli arresti per usura di Isernia, ma sul giallo di San Giacomo degli Schiavoni, la ragazza trovata morta nella vasca da bagno nella giornata di ieri. Adesso vediamo il servizio da Isernia sugli arresti dei giorni scorsi per un giro di usura, perché sono cominciati gli interrogatori e ci sono novità dalle indagini. Il servizio di Sergio Di Vincenzo. Sono cominciati oggi al Tribunale di Isernia davanti al giudice per le indagini preliminari Antonio Ruscito, gli interrogatori di garanzia dei principali indagati dell'operazione White Shark, che ha portato la squadra mobile a eseguire due ordini di custodia cautelare in carcere per Luigino e Costantino Morello, secondo gli inquirenti erano elementi dell'organizzazione, e a disporre i domiciliari nei confronti di Claudio Giancola. Rintracciato nei giorni scorsi in provincia di Teramo, attualmente sta scontando la misura cautelare a Isernia. Secondo l'accusa, aveva il compito di segnalare imprenditori, commercianti e cittadini in difficoltà. Per Celestino Morello si è optato per l'obbligo di firma, mentre altre due persone sono indagate a piede libero. Pesanti i reati ipotizzati dalla procura di Isernia, associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione. Le vittime, per evitare ritorsioni nei confronti dei familiari, erano infatti costrette a pagare le bollette della luce o del gas dei presunti usurai, oppure a rifornirli di generi alimentari. Un extra rispetto agli interessi applicati sui prestiti a strozzo. Secondo il perito della procura, si andava dal 50 fino al 600%. Le indagini non sono ancora concluse. Nelle sei abitazioni perquisite dalla polizia sono stati sequestrati documenti definiti interessanti dagli investigatori. Si parla di numerose scritture private, cambiali e passaggi di proprietà. Non è dunque escluso che anche altre persone, oltre alle dieci già accertate, siano finite nella strada senza uscita dell'usura. Un giro più vasto di quanto si creda. Le vittime non risiedono solo a Isernia o nei paesi vicini, ma anche nelle province di Frosinone, Foggia e Caserta. Ancora la cronaca, c'è stato un nuovo tentativo di truffa al telefono ai danno di una persona anziana a Campobasso. Un sedicente avvocato e un falso agente delle forze dell'ordine hanno riferito di un incidente stradale occorso da alcuni familiari delle persone chiamate al telefono. Oltre al naturale spavento, all'anziano è stato chiesto di sistemare l'assicurazione dell'auto incidentata per 2.500 euro. All'opposizione di non avere in casa quella cifra, il presunto avvocato ha fatto scendere le pretese fino a 200 euro. L'anziano a quel punto ha sospettato il raggiro e ha smascherato i due. L'episodio è stato denunciato in questura ed è l'ultimo di una lunga serie che si sta verificando in questi giorni. Ruba invece mobili ed altri materiali dal villaggio di Casette in legno temporaneo a San Giuliano di Puglia, realizzato dopo il terremoto, ma sulla strada del ritorno viene fermato dai carabinieri che scoprono refurtive e lo denunciano. L'uomo è stato perquisito e trovato con il materiale sottratto che è stato poi restituito al comune di San Giuliano di Puglia, che ne è proprietario. Seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Campobasso per modificare il piano finanziario e le tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti. Ci saranno degli aumenti, battaglia in aula tra maggioranza e opposizione. Per noi a Palazzo San Giorgio c'era Tonino Danese. Una delibera errata perché sbagliata era la proposta della Giunta Battista, un errore sostanziale per carenza di controllo degli atti predisposti dalla struttura. Il gruppo del Polo Civico in Consiglio Comunale a Campobasso non si è spostato di un millimetro dalla propria posizione riguardo l'oggetto della seduta, cioè le modifiche al piano finanziario e le tariffe della Tari 2014, la tassa sui rifiuti. Opposizione critica con Battista e i suoi, che si difendono chiamando in causa la vecchia amministrazione. Noi ci siamo accorti dell'errore clamoroso di chi ci ha preceduto, ha detto il sindaco. Toccato sul vivo l'ex primo cittadino di Bartolomeo ha replicato senza mezzi termini. Le buche non ce ne sono. Se c'è buco sono quelli lasciati da loro di 40 milioni e 25 di prima. Purtroppo hanno vinto sulle mezzogne e sulle mezzogne stanno continuando ad andare avanti. La colpa, se c'è, voglio dire, è dell'ente gestore di chi non ha mandato le bollette per tempo e per cui c'è stato un minore introide. Tutto quel casino era nato perché l'ente gestore qualcosa non aveva fatto per bene, come oggi non ha fatto per bene quelle cose. È probabile che ci sia, non buco, un mancato introide di un milione e mezzo perché gli uffici non si sono attivato l'ente gestore nei confronti del quale nessuno fa nulla. Pilone Democrazia Popolare ha presentato un ordine del giorno per istituire una commissione di verifica sulla delibera errata e per capire come recuperare eventuali buchi dovuti a mancati introiti precedenti sulla tassa. Ordine del giorno respinto. Sono passate a maggioranza le modifiche all'Atari 18, voti a favore 10, contrari. Tradotto in cifre, sono stati ricalcolati coefficienti. Per le utenze domestiche si è passati dal 73% al 64,40%, per quelle non domestiche dal 27% al 35%. Il costo del servizio, come era stato approvato in precedenza, circa 20 giorni fa, viene perfettamente rispettato e quindi è in linea anche con le tariffe approvate quest'oggi. L'unica modifica che è stata fatta ed è stata opportuna e necessaria farla è riequilibrare le tariffe domestiche e le tariffe non domestiche per garantire il costo finale che è quello del servizio. Se ci sarà un leggero aumento, stiamo nell'ordine delle 2-3 euro per le utenze domestiche. Per quelle tipologie di utenze che per natura possono produrre un quantitativo superiore di rifiuto, si è applicato la tariffa prevista dal DPR 158 del 99 al minimo tariffario. Quindi, rimodulando solamente le tariffe, si è riusciti a coprire il costo finale che è quello del servizio. Per pagare la Tari, 30 ottobre prima, rata o saldo totale, poi 30 novembre e 31 gennaio. E continuiamo a parlare di rifiuti, perché da domani parte a Isernia la prima fase del progetto per la raccolta differenziata. Oggi il servizio è stato presentato a Palazzo San Francesco e ce ne parla Enzo Di Gaetano. Da domani a Isernia spariranno progressivamente tutti i cassonetti stradali presenti sul territorio comunale e partirà contestualmente la raccolta differenziata. Intanto le famiglie in regola con la tassa su rifiuti stanno già ricevendo la loro letterina per la consegna dei kit. Gli evasori dovranno prima pagare gli arretrati e poi avranno i loro kit. Chi non pagherà dovrà tenersi rifiuti in casa, perché la nuova normativa prevede che i raccoglitori zonali saranno dotati di chiave e la chiave verrà rilasciata solo a chi è in regola. Insomma, Isernia si comincia a fare sul serio e dall'immondizia parte la prima caccia agli evasori delle imposte comunali, che sono qualche migliaio di nuclei familiari. A parte la differenziata, ma ci sono due mesi di tempo per organizzarsi. In questi due mesi che cosa accadrà? Questi due mesi saranno propedeutici per lo start-up della campagna per la raccolta differenziata e la raccolta porta a porta, che inizierà nei primi giorni del mese di dicembre. Sono propedeutici perché questi due mesi saranno caratterizzati da un'intensa campagna di informazione e di comunicazione che coinvolgerà direttamente la città per quanto riguarda la riorganizzazione della gestione dei rifiuti. Credo che questi due mesi saranno importanti soprattutto per ridurre al massimo le difficoltà che i cittadini potranno incontrare con questo nuovo metodo di gestire i rifiuti. Soprattutto per stravolgere il meno possibile anche quella che è l'attività e l'abitudine quotidiana che fino ad oggi aveva il cittadino della nostra città. Ci saranno tre tipi di raccolta di rifiuti differenziati. Centro storico, centro cittadino e borgate. Quali sono le differenze, Assessore? Diciamo che in generale le modalità sono due. Noi applicheremo per quanto riguarda la modalità del porta a porta in tutta Isernia, Isernia città, mentre per quanto riguarda le borgate avremo una modalità differente che è quella del bidone di prossimità. Ma in tutta la città di Isernia verrà attuata e verrà realizzata la raccolta differenziata. Assessore Amentola, cosa ci guadagna il cittadino? Cosa ci guadagnano le famiglie e cosa ci guadagna il comune di Isernia? Perché la differenziata è anche un business per l'azienda che la fa. Innanzitutto io ritengo che sia una svolta importante per la città di Isernia perché ci metteremo al passo con i tempi con altre città che hanno già sviluppato questa nuova gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda invece il cittadino, durante questo anno in cui noi monitoreremo la raccolta differenziata, premieremo il cittadino che farà più differenziata rispetto all'indifferenziata. Quindi per il cittadino sicuramente, oltre ad avere una città sicuramente più vivibile, avrà sicuramente un risparmio economico. Torniamo alla cronaca, è stata ritrovata a Velletri, in buone condizioni di salute, Giorgia Verrillo, la sedicenne di San Pietro infine, di cui non si avevano notizie dallo scorso weekend. Le ricerche in questi giorni avevano interessato anche la provincia di Isernia, la madre della studentessa, infatti, è originaria di Venafro. A Sesto Campano invece i carabinieri hanno denunciato otto persone per abusivismo edilizio, sette sono del posto e una è di Ciorlano, avevano delimitato con blocchi di cemento armato un territorio del quale sono comproprietari, ma non avevano le concessioni per farlo, le opere sono state sequestrate. Tra Castelge del Giudice, Rocca Sicura, Castelpetroso e Santa Maria del Molise, invece, sempre i carabinieri hanno denunciato due imprenditori edili e due titolari di attività commerciali per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sfruttamento dei lavoratori in nero. Sospesa anche l'attività dei due cantieri dove sono state riscontrate le infrazioni. E adesso torniamo a parlare della Corte d'Appello dei Tribunali a rischio soppressione. Assemblea pubblica a Larino per rinnovare una battaglia comune a difesa dei presidi del territorio e dell'autonomia regionale. Vediamo com'è andata. Avvocati, amministratori locali e regionali, ma pochi cittadini. Il problema dei tagli delle sedi giudiziarie tuttavia riguarda tutti e a Larino i rischi della soppressione della Corte d'Appello di Campobasso e quindi del Tribunale sono stati ribaditi nel corso di una prima assemblea pubblica. L'incontro si è svolto nella sala di una struttura che ha già subito e continua a subire le conseguenze dei tagli, quella dell'ospedale Vietri. Nel suo intervento l'avvocato Antonio De Michele, presidente dell'Ordine di Larino, ha fatto il punto della situazione evidenziando un quadro ancora confuso. L'allarme è ancora in atto. Aggiungono dal centro e da Roma notizie contraddittorie. Da un canto Orlando avrebbe detto, o ha detto, al Congresso nazionale dei giovani avvocati che per adesso la revisione dei distretti e quella dei circondari è in stato di quiescenza. Dall'altro, sempre da Roma, giungono notizie diverse. Fondi accreditate ci dicono che una richiesta di delega al Parlamento potrebbe essere portata al Consiglio dei Ministri del 15 ottobre. All'incontro anche il Vescovo Gianfranco De Luca mi piacerebbe un Molise che gioca in attacco e non solo in difesa, affermato. Sono intervenuti tra gli altri anche il senatore Roberto Ruta che ha ribadito l'impegno anche a costo di non votare la fiducia al Governo e il sindaco di Larino, Vincenzo Notarangelo. Il Tribunale di Larino in particolare ha già visto l'accorpamento l'anno passato della sezione di Termoli e non si capirebbe la ragione per cui oggi decretarne la fine quando non ancora vediamo neanche i frutti di questa prima riforma. Il Molise ha già dato in termini di riorganizzazione degli uffici giudiziari, delle sedi giudiziarie. Quest'ulteriore sacrificio certamente va scongiurato. Gli assessori Cola Giovanni e De Capo hanno organizzato a Campobasso una conferenza stampa per tracciare il bilancio di Vivi la tua città, l'evento che si è svolto sabato scorso a Campobasso. Un evento che abbiamo realizzato a costo zero, ha precisato Cola Giovanni, una manifestazione che ha richiamato in città molta gente che contiamo di riproporre con eventuali correttivi. Vedete le immagini della conferenza stampa di questa mattina. Un bilancio dunque ampiamente positivo a giudizio del Comune di Campobasso e di quanti hanno collaborato all'organizzazione dell'evento. Da domani fino al 15 gennaio è possibile raccogliere il tartufo bianco pregiato a comunicarlo il Presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, e l'assessore all'ambiente Alberto Tramontano. L'assessorato provinciale fanno sapere ancora e è a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento in merito. Continua ad incassare consensi letture effervescenti al progetto promosso dal liceo scientifico di Serni. E hanno infatti aderito anche gli studenti del Classico. Durante il primo incontro all'Aula Magna Delliti si hanno incontrato la scrittrice Chiara Gamberale. Vediamo com'è andata. L'obiettivo non è semplicemente quello di trasmettere l'amore per la lettura, ma di coinvolgere e stimolare gli studenti, chiamati attraverso la loro partecipazione attiva, a dare il proprio contributo prima nel mondo della scuola e poi nella società. Letture effervescenti, il progetto coordinato dai docenti del liceo scientifico di Sernia, Francesca Penta e Giovanni Petta, riparte quest'anno con l'entusiasmo di sempre è una novità l'adesione degli studenti del liceo classico. Sì, ci siamo aperti al liceo classico, Fascitelli, e abbiamo avuto un'adesione immediata e molto bella, perché circa 60 ragazzi del classico si sono iscritti. E quindi anche i colleghi del classico collaborano con noi e questa integrazione ci piace molto. In pratica leggere i libri piace un po' a tutti e insomma nel nostro territorio è bello che ci siano tanti ragazzi che leggono i libri. Ospite del primo incontro del nuovo anno scolastico, la scrittrice Chiara Gamberale, tra l'altro di origini agnonesi. Era stata presente anche l'anno scorso, quando ha partecipato alla festa del decimo compleanno di letture effervescenti, insieme al magistrato Raffaele Cantone, nel frattempo nominato presidente dell'autorità nazionale anticorruzione. La scrittrice ama partecipare agli incontri con i ragazzi di lettura effervescenti, sempre puntuali e severi nelle loro analisi. Stavolta il confronto ha preso spunto dal suo ultimo libro, Per dieci minuti. Si racconta la possibilità di uscire da un periodo scuro, tutti cadiamo in un periodo scuro, la vita è anche questo, però la vita è soprattutto uscire da quei periodi. La mia proposta è proviamoci con un metodo pratico, cioè facciamo una volta al giorno per dieci minuti qualcosa che non abbiamo mai fatto. La protagonista del libro lo fa e invita tutti a provare a farlo per capire che forse il meglio della vita è tutto quello che ancora non conosciamo. C'è qualcosa di autobiografico in questo libro? Ah beh, io il percorso l'ho fatto veramente, sì, sì, quindi l'ho provato prima sulla mia pelle e proprio mentre giocavo ai dieci minuti, cioè mentre per un mese facevo una volta al giorno per dieci minuti qualcosa che non avevo mai fatto, mi sono resa conto che era l'unico romanzo che potevo scrivere, lo stavo vivendo il nuovo romanzo. Questo è il nostro ultimo servizio, termina qui il telegiornale di Telemolise, vi lascio alle previsioni del tempo e poi alle notizie sportive. Buona giornata, a più tardi.